ciao ragazzi allora io ho fatto qua era questa bottiglia poi ho messo qua e tutta l'ho frullato e quindi era concentrato io l'ho messo tutto qua quindi avrò quasi quanti litri ha 5 litri a questo quasi perché era bello concentrato quindi mi è piaciuto e lo lascio così adesso alla schiuma però mi piace tanto ragazzi provatelo solo una vi costa solo una saponetta di marsiglia quanto lo abbiamo pagato un euro e passa perché erano due uno l'ho dato mia sua c'era e uno l'ho preso io quindi vai profumino vi mando ah voglio farvi vedere una cosa almeno saranno due video pesantissimi un po' faccio vedere una cosa allora chi non ha sul facebook non ci vede io ho messo due cipolle che faranno farà cipollotti la parte verde che io lo uso tanto in insalata quindi oggi messi su facebook alla fine si sono anche battesati che si chiama olia chip chip olia il maschietto è la donna perché non potevo non potevo sposare una cipolla bianca con una rossa quindi con di scostumati quindi questa qua la cipolla la cipolla sarà per l'insalata che buono ragazzi madonna quasi quasi una leccata vuoi nicola va bene cioè non so penso che la va bene perché il sapone quindi provate 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 ciao ragazzi ciao ragazzi buona serata ancora ciao ciao